Theia, The Crimson Eclipse, è un titolo che è riuscito a farmi innamorare del suo mondo fin dalle prime battute di gioco. Un progetto così ben confezionato ed avvincente da avermi fatto desiderare più volte di avere anche solo la possibilità di poterne condividere l'esistenza con buona parte dell'utenza appassionata TJRPG. Ma andiamo con ordine. Theia è l'ambizioso progetto di Lollo Rocket Diver, uno sviluppatore italiano che è riuscito a creare un RPG che non sfigurerebbe affatto assieme a giochi ben più conosciuti. E non solo. Fa capire come opere prodotte con lo spesso bistrattato RPG Maker possano dare davvero molto quando sviluppate come si deve. L'introduzione di Theia è chiara. Non ci troviamo di fronte ad un mondo fantasy di stampo medievale, no. Siamo immersi in un mondo futuristico e distopico, ennesimo monito alla rovina causata da avidità ed egoismo delle genti che lo popolano. A causa di una serie di crisi energetiche, infatti, Aria-Tail, il pianeta in cui si svolge l'avventura, diviene teatro di una situazione tanto paradossale quanto mai intrigante. Nel XXIII secolo il collasso dei moderni sistemi di comunicazione porta ad un ritorno del feudalesimo, con regnanti, vassalli ed imperi. Perciò, se da un lato non siamo più nel Medioevo in senso letterale, dall'altro ci troviamo in un mondo che combina frammenti di questo periodo storico alla science fiction classica senza per questo rinunciare ad elementi quali razze diverse, mostri e magie di vario genere. Entrare in un castello e vederci i laboratori in cui vengono condotti esperimenti genetici fa sorridere perché stravolge l'aspettativa del giocatore in una corsa costante verso tutto ciò che Theia ha da mostrare. Ma ancor più che l'ambientazione, ad essere particolarmente curati sono i personaggi i quali sono sviluppati coerentemente con il loro background e danno modo di crescere notevolmente nel corso della storia. Ci sono scene che ho trovato degne del loro spazio tra le leggende del genere JRPG per regia e sceneggiatura. Interi cliché vengono capovolti ed approfonditi con una tale profondità che da appassionato di scrittura non posso che condividere. E così, la ragazza che dimostra meno anni di quanti ne abbia si rivela molto più sfaccettata del suo stereotipo di appartenenza in modo, peraltro, perfettamente sensato. Le dinamiche di parti sono coerenti e ben scritte. Il fatto che si formino gruppi di individui con uno scopo comune non significa che questi rimarranno tali fino alla fine del gioco. Tradimenti, litigi e scontri che alle volte finiranno anche nel sangue sono all'ordine del giorno e giustificati. Questo non significa che siano del tutto assenti sbavature o personaggi che avrebbero potuto dare molto di più. Ma nel complesso sono rimasto più che piacevolmente soddisfatto di come molti di questi combattenti abbiano avuto modo di essere sviscerati. L'accampamento, inoltre, permette di ascoltare i dubbi e le perplessità dei vari compagni del protagonista dando al giocatore la possibilità di rispondere in modi diversi è, facendolo, sbloccare abilità e potenziare le statistiche dei personaggi. Di pari passo con l'approfondimento dei combattenti che guidiamo viene tessuta la ragnatela della trama un rapido susseguirsi di rivelazioni, colpi di scena e scontri rapidi tra le rovine di una città o mentre si scala una montagna impervia. Il mood, per quanto alle volte si faccia più drammatico e teatrale del dovuto è qualcosa che l'autore riesce a mettere in chiaro fin da subito e che accompagna la narrazione in modo costante. In altre parole, c'è uno stile, un'impronta ben riconoscibile capace di tenere alta e costante la tensione del giocatore. Spostandoci sul versante del gameplay Teia è un classico RPG con ATB che potrebbe straniare a causa delle terminologie debuff e debuff ed apparenti complessità ma non è affatto inutilmente complicato. Le armi sono poche ma tutte diverse per aspetto e parametri ad esse legati. Alcune saranno più efficaci contro creature umanoidi altre porteranno bonus statistici al possessore oppure infonderanno status alterati con cui piegare gli avversari. Inoltre, alle armi saranno collegati da 0 a 2 slot nei quali poter incastonare dei pezzi di equipaggiamento perciò bisognerà sempre valutare se sia preferibile avere più attacco rispetto ad una maggiore flessibilità strategica. Non meno interessante è il dominio una barra divisa in soglie che si riempie attaccando gli avversari ed utilizzando abilità e si svuota qualora i personaggi utilizzino oggetti o subiscano danni costringendo il giocatore a giocare aggressivamente per raggiungere i vari livelli. Il gioco sta nello scegliere prima di uno scontro quale abilità e quale livello del dominio utilizzare. considerando che il livello 3 offre il maggior numero di benefici ma può essere sfruttato solo durante un combattimento particolarmente duraturo. Di contro, i personaggi sono piuttosto limitati nel numero di abilità ma questo facilita la differenziazione tra di essi la quale non si limita soltanto ai combattimenti. Quasi tutti i personaggi hanno abilità passive che possono essere utilizzate durante l'esplorazione. Sarà infatti possibile portarsi dietro un combattente capace di ridurre la velocità di movimento dei mostri nella mappa in quanto non esistono incontri casuali in teia oppure aprire forzieri sigillati o ancora raggiungere punti alti tramite il protagonista o hackerare dei terminali e ciò rende molto appetibile l'idea di segnarsi appunti e screenshot dei tesori momentaneamente inaccessibili in modo tale da poterli ottenere successivamente. Passando a ciò che concerne il secondario questo non soltanto è vario ma offre un grado di sfida non da poco soprattutto se si affronta il gioco senza l'ausilio di guida alcuna. In particolar modo il Colosseo permette di fronteggiare gruppi di nemici ciascuno con un proprio modo di combattere ed inoltre fornisce delle sfide particolari in cui si avranno specifiche restrizioni oltre che delle limitazioni sui personaggi da usare. Restando sempre in tema combattimenti ci sono i contratti taglie sulle teste di uomini o creature che se affrontate al momento giusto possono rivelarsi ancora più stimolanti dei boss di trama. In aggiunta a ciò vi sono missioni secondarie che offrono scorci maggiori sulle personalità dei personaggi o sul mondo di gioco allargando di volta in volta il campo visivo su questa o quell'altra realtà. Si sente, in altre parole di trovarsi davvero in un mondo vivo e pulsante e per dare un'idea della longevità di Teya completare soltanto la trama principale può richiedere dalle 30 alle 40 ore laddove portare a termine tutto ciò che è facoltativo può tranquillamente aumentare questa cifra di qualche decina. Spostandoci sul grafico e sul sonoro quello che ho visto ed ascoltato è un insieme estremamente coerente che nel prendere materiale qua e là è riuscito a trovare una sua identità precisa cosa che non è facile. Un gran numero degli sprite non è originale eppure è perfettamente calato nel contesto che Teya vuole raccontare sicché, a parte rare eccezioni non ho mai pensato che NPC o creature fossero fuori contesto. Stesso dicasi per i pezzi musicali i quali derivano da tantissime fonti tra cui Final Fantasy XI, Dark Souls e Valkyrie Profile avendo però un unico punto in comune il loro essere azzeccati. Credetemi, c'è un momento in cui parte il Gwyn's team che mi ha smosso dentro e non tanto perché adori la melodia in questione no, ma per quello che rappresenta in game, in quel preciso istante. Teya, The Crimson Eclipse è un prodotto fortemente autoriale ed identitario. Una di quelle opere che incarnano alla perfezione ciò che voglio mostrare tramite Finding Fantasy. Idee, sogni e speranze che si concretizzano nel culmine di progetti capaci di raccontare moltissimo dei loro creatori. Perciò, a chi posso consigliare questo videogioco? Principalmente a coloro che adorano i JRPG dai toni più cupi quei giocatori che amano l'idea di muoversi in periferie sporche buie ed arrugginite quei giocatori che hanno apprezzato le mille ombre di Midgar in Final Fantasy VII quei giocatori che vorrebbero gettarsi nuovamente in un mondo che prima della luce mostri un'oscurità apparentemente insormontabile. Di contro, lo sconsiglio a chi ricerca un'avventura dei toni molto più leggeri o semplicemente a coloro i quali non vogliano imbarcarsi in un viaggio che potrebbe richiedere oltre le 30 ore per il completamento e necessita di un minimo di attenzione per essere compreso fino in fondo. In Teia è necessario investirci non c'è dubbio ma dal mio punto di vista posso dire che sì ne vale la pena.